La situazione dei contagi e della pressione sugli ospedali abruzzesi, i numeri sono quasi da zona arancione, preoccupa non poco ma la situazione è a comune ovunque, ad ammetterlo il presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio in occasione della conferenza di presentazione della centrale del 118 all'Aquila. Proprio ieri il presidente ha avuto gli ultimi dati dal referente per le maxi emergenze Alberto Albani e per questo continua ad insistere sulla vaccinazione. Anche i dati che mi ha dato ieri il responsabile delle emergenze Albani mostra come su 33 persone decedute negli ultimi 10 giorni solo 4 erano state vaccinate con la terza dose e avevano un'età media di 90 anni. Quindi come dire, tranne le persone molto anziane e magari molto malate, che purtroppo neanche con la terza dose del vaccino si riescono a proteggere fino in fondo, tutti gli altri che sono deceduti o non avevano mai fatto alcun vaccino ed erano più della metà, oppure avevano la seconda dose fatta 6 o 7 mesi di media 7 mesi fa. Intanto il manager dell'Asduno Romano rivendica le tante cose fatte a partire dal Delta 7 che permette di avere un Covid hospital come Pescara e sulle assunzioni risponde perentorio agli attacchi ricevuti negli ultimi giorni. Le delibere, andate a vedere sullo proprietario, c'è una delibere la 15 del 2022 e la 25 del 2022 che prendono l'assunzione ai 55 infermieri, così come avevo dichiarato. Non solo, poi abbiamo altri 8 infermieri, perciò arrivano ai 63 perché sono stati assunti per il Dipartimento di Prevenzione con un'altra delibere. perché 55 e 5 sono destinati agli hub dei tamponi di preturo che abbiamo aperto, dove hanno lavorato i carabinieri per lo screening scolastico e dove continuano ad operare noi per dare la possibilità all'Aquila, per dare una risposta all'immensa richiesta dei tamponi che ci sta e anche per l'hub dei tamponi che sta a Vezzano. Il progetto per la realizzazione della centrale unica del 118 con eliporto e hangar all'ospedale San Salvatore nel frattempo è in realtà, grazie a 2 milioni e 100 dell'Emilia Romagna e al milione e 900 mila della Banca d'Italia, che renderanno la città un punto di riferimento anche per le maxi emergenze. 4 milioni circa contro gli 8 milioni del primo faraonico progetto irrealizzabile. Il progetto, rimasto incagliato per troppo tempo, è stato annunciato all'emiciclo dal presidente della regione Marsilio, dall'assessore Verì, dal sindaco dell'Aquila Biondi e dal manager dell'Azuno Romano. Ora partirà la fase della messa in gara. Entro fine anno si spera di aprire il cantiere. Grazie a tutti.